Niente schemi, punizioni o rigori ma guanti, palette scope per pulire i giardinetti di Piazza Kennedy. I calciatori dell'OS Avellino si sono trasformati in operatori ecologici per partecipare all'iniziativa della Lega di Serie B un giorno per la nostra città. Gravazzi per Rotta e Asma, quelli più attenti in prima linea che insieme ai compagni hanno rimosso carte, bottigliette di plastica e altri rifiuti dalle aiuole, tra qualche risata, battute sotto lo sguardo incuriosito dei passanti. Sì, siamo molto felici che l'AB organizzi questi eventi perché comunque è un modo per sensibilizzare i cittadini e anche tutti noi, perché comunque credo che è anche un modo per stare insieme e per sentirsi un po' più uniti. Abbiamo fatto questo evento, ci siamo impegnati a pulire un po' il parco e credo è un esempio da dare a tutti i cittadini perché per il bene comune tutti dovrebbero fare queste cose ogni giorno. E a proposito di bene comune, una signora ha osservato attenta i calciatori e non ha potuto fare a meno di rivolgere loro i complimenti, ma anche di fare una riflessione più generale. Sbravi perché sensibilizzano la città, però è troppo poco, questo dura un dieci minuti, un'ora, finisce così la cosa, invece deve andare avanti, dobbiamo essere tutti più interessati a salvaguardare la nostra città, noi ci teniamo alla nostra città. Quindi maggiore sensibilità da parte dei cittadini e da parte degli amministratori? Soprattutto degli amministratori perché ci sono delle leggi che non vanno rispettate. Per il corso, per tutta la città di Avellino ci sono cacche di cani, c'è una legge che non viene rispettata, i padroni la lasciano lì e quindi la città è sporca.